Ciao a tutti dalla Mente tra le Pagine, benvenuti in questo nuovo video in cui vi ho portato un personaggio estremamente interessante da un punto di vista psicologico, ovvero il personaggio di Ade. Ma perché vi ho portato questo personaggio? Beh, vi ho portato questo personaggio perché è un personaggio molto interessante, che presenta numerose sfaccettature psicologiche che è bene analizzare assieme a voi con la luce della psicologia. Tuttavia, prima di iniziare la nostra analisi è sempre bene fare le nostre solite due premesse. Per prima cosa, è bene dire che le mie analisi sono analisi psicologiche che si rivolgono personaggi immaginari, quali personaggi dei film, libri, fumetti, ma anche dei videogiochi. Nulla hanno a che fare, nulla devono avere a che fare con analisi psicologiche, né tanto meno psicoterapeutiche che si rivolgono persone reali. Seconda cosa, è bene dire che se non conoscete il personaggio di Ade, vi invito prima a guardare il film di Hercules prima di procedere con questo video. Detto questo, possiamo iniziare la nostra analisi assieme. Allora, il primo tratto di Ade che dobbiamo esaminare è la sua invidia e la sua frustrazione, ovvero Ade è pervaso da un profondo senso di invidia nei confronti di suo fratello Zeus e anche del suo potere divino. La sua inadeguatezza e frustrazione emergono dal confronto costante con la figura di Zeus, che è percepito come superiore e ammirato da tutti gli dèi e dagli umani. Questa invidia genera un intenso desiderio di rovesciare l'ordine divino e anche di dimostrare la propria superiorità. Ade brama ardentemente il controllo e il potere assoluto sugli dèi e sugli umani. Questo desiderio nasce dalla sua profonda insicurezza e dal bisogno di affermare la sua importanza ed anche il suo valore. Invidia la posizione di Zeus e si sforza di superarlo, desiderando essere riconosciuto come il più potente e influente tra gli dèi. Ade personifica l'aspetto oscuro e represso della personalità umana. Egli rappresenta l'ira, la vendetta e la malvasità che risiedono nell'uomo, ma che spesso l'uomo stesso tende a negare, reprimere o a proiettare sui suoi simili, distruggendo o inclinando considerevolmente i rapporti che ha con loro. Questo personaggio è un maestro della manipolazione psicologica, in quanto sfrutta le debolezze e le paure degli altri per raggiungere i suoi scopi. Questa capacità deriva dalla sua profonda comprensione della natura umana e della psicologia individuale, oltre che delle emozioni degli altri. Ade è spietato e riesce a manipolare le persone all'inverosimile fino a quando non riesce ad ottenere da loro tutto ciò che vuole. Nonostante la sua malvagità, Ade incerca di riscatto e di riconoscimento, vuole dimostrare al mondo la sua potenza e il suo valore, cercando di compensare allo stesso tempo la sua insicurezza interiore. Insicurezza interiore che tuttavia non potrà mai essere risolta, o almeno non potrà essere risolta fino a quando Ade non rielaborerà i suoi traumi psicologici che l'hanno generata. Questo personaggio è stato emarginato e ha vissuto nell'ombra di suo fratello Zeus per lungo tempo, continuando a lavorare duramente e costantemente nell'ombra e anche nell'emarginazione, mentre gli altri dei si divertivano e facevano feste e banchetti lussuosi sull'Olimpo. Questa ferita profonda lo spinge a cercare vendetta e a dimostrare il suo valore a tutti i costi. Ade è combattuto tra la sua sete di potere e il desiderio di essere accettato. Questo conflitto interiore alimenta la sua lotta costante per ottenere ciò che desidera e superare la sua insicurezza. L'umorismo spesso involontario di Ade può essere analizzato a livello psicodinamico come una forma di difesa psicologica. In situazioni in cui si sente minacciato o inadeguato, Ade potrebbe utilizzare anche a livello inconscio, quindi senza rendersene conto, l'umorismo come un modo per distanziarsi emotivamente e affrontare l'ansia o lo stress. Questa forma di difesa può servire anche a mascherare le sue vere intenzioni o a manipolare gli altri personaggi. Tuttavia, l'umorismo involontario di Ade potrebbe anche rivelare una profonda insicurezza o un bisogno di essere accettato e apprezzato dagli altri, anche se le sue azioni possono essere malvagie o distruttive. Ade ha paura di essere abbandonato e dimenticato. Questa paura lo spinge a cercare il controllo e l'autorità assoluta per evitare di essere marginato ancora una volta. Paura di essere abbandonato che può nascere dalla sensazione barra convinzione intrinseca inconscia di Ade di valere poco. Nonostante la sua natura malvagia, questo personaggio desidera trasformarsi e riscattarsi. Questo desiderio di cambiamento è spesso mascherato dalla sua sette di potere, ma dimostra che esiste una parte di lui che cerca ancora una via di salvezza e una via di comprensione maggiore di se stesso e delle proprie emozioni. La battaglia tra Ade e Hercules rappresenta anche un conflitto interiore tra il lato oscuro e il lato luminoso della personalità umana, ma anche tra la vita e la morte. Ade rappresenta le forze negative e distruttive che devono essere affrontate e integrate per raggiungere la piena realizzazione, mentre Hercules rappresenta la luce e le qualità migliori insite nell'essere umano e nella stessa natura umana. Bene, noi siamo arrivati alla fine dell'analisi di questo personaggio veramente straordinario. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stato in mia compagnia fino alla fine del video. vi invito a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e a condividere il video su Ade con altre persone che potrebbero essere interessate a questi argomenti veramente entusiasmanti, ovvero che potrebbero essere interessate alla psicologia dei personaggi immaginari che noi stessi più amiamo. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stato in mia compagnia fino alla fine del video. Noi ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto dalla mente tra le pagine. Ciao e grazie ancora. Ciao.